Io più che altro volevo fare anche un ragionamento, prendendo spunto, forse è dovuto andare via, il dottor Magistro, io ho capito e prendo atto di quello che lui diceva rispetto alle rassicurazioni sul fatto che l'agenzia delle dogane dei monopoli non ha nessun interesse a incentivare, eccetera, però, viva Dio, dobbiamo prendere atto, altrimenti si parte da dati che finora lo Stato si è preoccupato più di implementare l'offerta di gioco, partendo dal presupposto che l'offerta di gioco legale avrebbe fatto un argine alla diffusore di questo illegale, eccetera, eccetera, comunque si è fatto molto per implementare l'offerta trascurando le conseguenze che potevano, le conseguenze negative che si potevano creare sul piano sanitario, sul piano sociale, sul piano dell'inquinamento della dimensione della legalità da parte degli interessi illegali, eccetera, eccetera. Ne è stato parlato tutto il pomeriggio, quindi non mi soffermo su questo, però partiamo dalla presa d'atto di questo problema. Abbiamo sottovalutato il problema e ci siamo ritrovati la crescita esponenziale di un fenomeno che a questo punto è un fenomeno che ha gravi problematicità sul piano socio-sanitario. Allora, in realtà la consapevolezza di questo comincia a crescere e è cominciata ad emergere soprattutto a partire dai livelli territoriali, dagli enti locali, dai sindaci che hanno a che fare quotidianamente con le problematicità a volte drammatiche di questo fenomeno. Ed è arrivata anche nell'attività istituzionale del nostro Parlamento in maniera molto forte. Il primo passaggio è quello che è stato già citato del 2012 quando nel decreto Balduzzi sulla sanità viene introdotto il tema con il riconoscimento della patologia da gioco d'azzardo compulsivo, l'inserimento nei rea. Poi ha ragione Massimo. Il problema è che l'aggiornamento delle rea non è stato fatto dal 2012 a ora, non è stato fatto in realtà da molto prima. E questo è un problema, indubbiamente. Ma nel frattempo, contemporaneamente al decreto Balduzzi, hanno legiferato su questo le regioni e ci sono molte leggi regionali che vanno nella direzione che poi, come spiegherò, noi abbiamo auspicato nella legge nazionale. Ci sono regolamenti comunali che non sempre sono compatibili con le leggi nazionali, regionali, eccetera. Quindi c'è anche un problema di competenze. All'inizio di questa legislatura, già in quella precedente c'erano delle proposte di legge che poi per la fine anticipata della legislatura sono rimaste, all'inizio di questa legislatura sono state ripresentate, non mi ricordo se 8 o 9 proposte di legge, che sono appunto quelle, la prima di queste, quella dell'onorevole Binetti, però ci sono proposte del PD, dei 5 Stelle, no? E su queste la nostra commissione ha lavorato per arrivare a un testo unificato. Un testo unificato ampiamente condiviso. Tra l'altro erano proposte di legge alcune anche molto specifiche, tipo semplicemente, unicamente sulla materia dell'etichettatura dei tagliandi, per esempio delle lotterie, piuttosto che eccetera, eccetera. Il lavoro che noi abbiamo fatto ha portato a invece un testo che, come diceva Baroni, ha un po' più l'aspetto della legge 4, no? Ma questo perché? Perché inevitabilmente l'aspetto sociosanitario, se vogliamo affrontare sul serio questo problema, deve prevedere il tema della cura, ma deve prevedere il tema della prevenzione. E non esiste la prevenzione se noi non entriamo nell'ambito più strettamente normativo che riguarda la materia dei giochi e quindi inevitabilmente anche fiscale, eccetera, eccetera. E' difficile tenere schizofrenicamente separati i due ambiti, con le conseguenze ovviamente che vedremo, che cercherò di spregarvi in tre parole, di un problema anche di sovrapposizione di competenze, indubbiamente. E questo forse è, anzi, sicuramente è il motivo per cui il cammino di questa legge ha qualche inciampo, diciamo. Comunque l'intento è quello, noi abbiamo lavorato. A partire dal tema sanitario, cioè dalla presa d'atto che c'è oggi una nuova patologia relativamente a una nuova forma di dipendenza, e quindi il riconoscimento, l'obiettivo della legge è quello di provvedere da parte dello Stato alla cura, alla riabilitazione e alla prevenzione di questo fenomeno. Innanzitutto la legge cosa fa? Definisce la patologia, facendo riferimento in termini scientifici alla definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, definisce la patologia come il livello essenziale del sistema sanitario nazionale con tutto quello che ne consegue, definisce anche una filiera individuando come riferimento i servizi per le dipendenze istituiti all'interno dei sistemi sanitari regionali, che operano sulla base di linee guida emanate dal Ministero della Salute e prevede presso il Ministero della Salute l'istituzione di un osservatorio nazionale che monitora il fenomeno, ma definisce anche le linee guida per contrastarlo, ma definisce anche le linee guida e i criteri di una serie di iniziative per prevenirlo, campagne di informazione, di sensibilizzazione e in particolare abbiamo previsto che avesse come target privilegiato le nuove generazioni e quindi il mondo della scuola e che ci fosse anche un coinvolgimento del Ministero dell'istruzione. Quindi tutta questa è una prima parte del provvedimento di legge. Non ci siamo fermati lì perché abbiamo ritenuto che per dare efficacia al lavoro di prevenzione bisognasse invadere anche il campo più specifico di precise misure di contrasto ai fenomeni degenerativi, per esempio il gioco dei minori e quindi i sistemi di filtro per gli apparecchi, onde, rendere impossibile l'accesso ai minori, eccetera, eccetera, ma anche a una serie di misure di prevenzione sotto la forma del disincentivo dei fenomeni di abuso e quindi non solo le modalità di accesso ma anche le modifiche degli apparecchi in modo da non consentire una ripetizione eccessiva, eccetera, eccetera. E guardate, questa cosa qua in maniera molto poco proibizionista, personalmente non sono proibizionista e penso che sbagliano quelli che credono che il problema si risolva impedendo il gioco d'azzardo nel senso del gioco, pur lecito ma con vincite basate sull'alea e con vincite interna, eccetera. Io penso che non si può impedire questa cosa. Penso che dobbiamo fortemente normarla in virtù della pericolosità che può avere l'eccesso. E quindi tutta una serie di misure che noi abbiamo inserito nella legge relative alla limitazione, all'apertura di esercizi e di nuovi esercizi, la moratoria di cui parlava Baroni rispetto all'introduzione di nuovi giochi, una nuova disciplina delle sanzioni più pesanti e più disincentivanti rispetto al contravvenire alle norme, una disciplina fiscale in materia aggiornata che fosse più uniforme e che consentisse anche con quelle maggiori entrate nella misura necessaria a finanziare le azioni previste dalla stessa legge. Quindi in sostanza una legge che ha una sua organicità e che tende a riordinare l'intero settore del gioco avendo come prospettiva non quella di impedire il gioco, non avendo come nemico gli operatori del settore e volendo, come qualcuno ci accusa di voler fare, eccetera, assolutamente no, ma avendo come obiettivo quello di dare organicità, ordine alla materia e di prevenire e risolvere i problemi che oggettivamente questo settore può creare per gli abusi che si verificano. Allora, cos'è successo? Adesso è evidente che si sono aperti molti problemi. Ora, ci sono dei problemi su questo testo che derivano da un problema proprio di sovrapposizione di competenze. Ministero delle Finanze, Agenzia dei Monopoli, Ministero della Salute, a partire dal fatto di dove collochiamo l'osservatorio. Attualmente l'osservatorio sta collocato sotto la presidenza del Consiglio, ma comunque in qualche modo la competenza in materia è tutta sull'Agenzia delle Dogane. Noi proponiamo di spostarla al Ministero della Salute. Ci sono dei problemi anche relativi a una sovrapposizione di competenze fra i diversi livelli istituzionali, quello statale, quello regionale. Quanto la legge nazionale debba essere vincolante rispetto alla capacità dei comuni di emanare regolamenti relativamente ai regolamenti amministrativi sull'apertura degli esercizi, eccetera, eccetera. Perché l'Italia è diversa dalle Alpi al canale di Sicilia, perché i nostri borghi, centri e grandi città sono diversi e le distanze dai luoghi sensibili di cui anche prima sentivo si parlava sono diverse relativamente anche al contesto in cui si opera, eccetera. C'è soprattutto su questo testo di legge che noi abbiamo condiviso che vorrei ricordare la Commissione XII ha approvato, ha votato proprio, insomma, come testo conclusivo. C'è un problema che è relativo a un'evidente invasione di campo della materia di pertinenza della delega fiscale. Il Parlamento, alcuni mesi prima del nostro lavoro, ha approvato la legge delega di riforma della materia del fisco. in una parte di questa legge delega che è molto ampia come competenze nell'articolo 14 è previsto un articolato dettaglio degli indirizzi sulla base del quale il Governo ha delega di aggiornare tutta la materia relativa alla normativa sui giochi. In quell'articolo 14 della delega fiscale ci sono molte cose identiche alle previsioni che noi abbiamo inserito nella nostra legge. Quindi è chiaro che qualcuno, anche da parte del Governo, ci ha fatto notare, guardate che state legiferando, va bene che il Parlamento è sovrano e può farlo, però state inserendo nella legge una serie di disposizioni che il Parlamento ha già deciso di delegare al Governo di attuare con decreto legislativo. La scadenza di questi decreti legislativi, apro una parentesi, è marzo prossimo, quindi è imminente. A questa discussione, che anche in parte tecnica, si è aggiunto sicuramente anche la preoccupazione, la contrarietà di molti operatori del settore per vincoli e regole ritenute penalizzanti in questo provvedimento. Fatto sta che ancora siamo riusciti a concludere l'iter alla Camera perché poi comunque dovrebbe passare al Senato, eccetera. Formalmente il provvedimento è fermo in Commissione Finanze in attesa del bilancio, scusa, del parere, ma è evidente che si è un po' insabbiato. Allora, io penso che però il lavoro che noi abbiamo fatto non sia comunque destinato ad essere smarrito. Noi insistiamo perché la legge prosegua il suo corso e arrivi all'approvazione definitiva, ma comunque già alcuni pezzi di quel che abbiamo seminato diciamo così, possono andare in porto rapidamente. Paola Binetti citava la legge di stabilità. Nella legge di stabilità, per una pura coincidenza, anche in quel caso si tratta dell'articolo 14, ma questa è una pura coincidenza, comunque all'articolo 14 è prevista per la prima volta nell'ambito del stanziamento del Fondo Sanitario Nazionale che viene riparito dalle regioni, un fondo finalizzato di 50 milioni di euro destinato alla cura delle patologie da gioco d'azzardo. Noi riteniamo che questi 50 milioni siano insufficienti rispetto anche alla previsione che avevamo fatto nel nostro testo di legge, eccetera, però riteniamo anche che questa sia una novità importante, cioè che apre un varco, cioè introduce per la prima volta il tema e riconosce il fatto che lo Stato deve inserire questo tema nella programmazione del sistema sanitario. Stiamo facendo, l'ho presentato io, l'ho presentato Paola Binetti, Baroni, eccetera, alcuni emendamenti per arricchire questa parte della legge di stabilità che fermo restando lo stanziamento del fondo, eccetera, introduca anche alcuni di quegli elementi qualificanti che noi abbiamo previsto nella legge, dall'osservatorio a tutta l'azione di prevenzione, per esempio lì nel testo attuale si parla soltanto di cura delle ludopatie e noi diciamo cura, riabilitazione, prevenzione, perché hanno un significato le parole e dietro ci sta. Quindi questo lavoro lo stiamo facendo e con la legge di stabilità faremo già un passo avanti sul versante della materia sociosanitaria, diciamo rispetto agli obiettivi che c'eravamo posti, l'altro passo avanti decisivo è l'attuazione della delega fiscale, cioè l'emanazione del decreto delegato che dovrebbe attuare quella parte lì che comprende molte delle cose. A quel punto gli obiettivi che ci volevamo prefiggere con il nostro testo di legge diciamo in qualche modo li realizziamo. Anche se io insisto che siccome viviamo in un paese in cui di solito le leggi sono incomprensibili al cittadino comune per come sono scritte, perché sono una serie infinita di rinvii ad altri provvedimenti, numeri, commi, eccetera, eccetera. Invece questa è una legge che dall'inizio alla fine descrive un processo, un ragionamento, un percorso e io penso che non sia inutile anche se basta non sia in contraddizione, se ribadisce misure coerenti con quelle previste dalla lega fiscale, con quelle appunto che oggi stiamo discutendo e approveremo in legge di stabilità, eccetera, perché dà il senso compiuto, comunica sul piano culturale, comunica al senso comune del paese i rischi del gioco d'azzardo, l'intervento che lo Stato fa, il riparatorio, ma anche l'intervento di prevenzione. E allora cura sì, ma prevenzione. Prevenzione vuol dire una cosa molto semplice, vuol dire disincentivare l'offerta e incentivare le alternative positive a quel tipo di intrattenimento, a quel tipo di modalità del tempo libero. E allora io penso che questo, ed è il tema su cui non possiamo, guardate e concludo perché ho parlato anche troppo, non possiamo sottrarci. è un problema innanzitutto culturale. Cioè questa roba qua, questo fenomeno che sta succedendo, è figlio di un modello sociale, che è il modello sociale fondato sul mito del denaro, sul mito del successo, del consumo, sulla ideologia del mercato portata alle estreme conseguenze, e sulla solitudine delle persone. Perché quella roba lì non crea aggregazione, non crea socialità, non fa neanche divertire nessuno alla fine, crea solitudine degli individui di fronte alla macchinetta, a inseguire anche il mito della scorciatoia della soluzione ai miei problemi. Chi è di noi che non ha mai pensato vincessi la lotteria? Per carità. Però quando questa cosa diventa l'unico valore di riferimento, io penso che ci sia da fare un grande lavoro culturale, per questo è importante fare una legge, non soltanto che decida le norme giuste, ma che riesca anche a parlare al senso comune, a comunicarle, perché sul piano culturale dobbiamo fare il grande sforzo di ricostruire le alternative positive a questa roba che ci sta distruggendo. E questo è l'impegno che noi comunque con tutte le difficoltà degli ingorghi legislativi cerchiamo di portare avanti.